Una fotografia sulla ricostruzione a più livelli dell'Aquila e dei comuni del cratere è quella scattata dal sottosegretario alla ricostruzione Vito Crimi in un'audizione alla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. Ne emerge un quadro tutto sommato rassicurante sull'Aquila a città. Crimi però ha evidenziato anche che esiste una difficoltà oggettiva per la finalizzazione degli interventi per la ricostruzione pubblica, che le frazioni sono più in affanno e ha fornito i dati della ricostruzione privata e ha anche detto che va trovato in utilizzo buono per il patrimonio immobiliare del comune che comprende progetti case e altri alloggi. Manca l'ultimo miglio, ha detto Crimi nello snocciolare i dati, ma sia in fase avanzata di ricostruzione relativamente al sisma del 2009. Il sottosegretario ha parlato anche del personale dell'USRA, 74 unità suddivise in varie tipologie di contratti. Avendo gli uffici una eterogenità di personale a disposizione, uno degli elementi di criticità ribadito, è proprio la difficoltà a gestire soggetti con funzioni diverse. Crimi ha fatto anche il raffronto a dieci anni sulla popolazione assistita. Dopo il sisma erano 67 mila persone, oggi 4 mila nuclei familiari godono ancora di assistenza. Per la ricostruzione privata nel comune dell'Aquila, ha detto il sottosegretario, questa si attesta al 73% con quasi 25 mila pratiche istruite e circa 1600 pendenti. Nel centro storico la privata si attesta attorno al 74%. In periferia diminuisce il tasso di intervento effettivo che va al 55%. Le aree che hanno sofferto di un intervento non tempestivo secondo Crimi sono le frazioni dove la ricostruzione privata è al 21%. Per la pubblica, Crimi ha parlato invece di 2 miliardi e 100 di importo finanziato. Analizzando i numeri si evince che la ricostruzione pubblica è il grande problema, come lui stesso ha evidenziato, va ad un'altra velocità rispetto alla privata e a suo giudizio esiste una difficoltà oggettivo. L'obiettivo per Crimi, relativamente poi al patrimonio immobiliare del comune, sarà avviare un tavolo di gestione per capire l'uso da fare in futuro dei progetti case e degli alloggi disponibili, circa 600 lasciati dalle famiglie in cambio dei contributi per immobili equivalenti. Nei comuni del cratere invece la criticità si è avuta con la soppressione degli UTR senza valutare le conseguenze. Il personale è stato trasferito definitivamente ai comuni, sotto la direzione però del titolare dell'ufficio speciale. Oggi serve un chiarimento di questa dicotomia, ha detto Crimi affinché il personale sia messo a disposizione dell'ufficio. Nel cratere guardando i dati c'è una situazione di ritardo e per Crimi è imputabile una scarsa capacità di spesa. Servono misure che sono in corso di attuazione. Una delle proposte è istituire un comitato di sorveglianza. Sul sisma del centro Italia i dati sono drammatici. Per il sottosegretario sono stati sbagliati sia il metodo che la governance. La ricostruzione pubblica qui è ferma ma c'è un decreto in corso per superare lo stallo. Anche per il doppio cratere e ci sono vari esempi nell'Aquilano, vedi Montereale ad esempio, per lui si doveva intervenire prima e differenziare gli interventi. Una revisione delle procedure oggi comporterebbe ulteriori ritardi.